Ecco, si prepara intanto Diana Laura Bulimar, Romena, esercizio al corpo libero. Si, vediamo la Bulimar. Si appresta con la prima diagonale un bellissimo doppio salto teso, una delle più grosse difficoltà nel settore femminile che si possono presentare. Rondata, Flick, un avvitamento in mezzo smezzato, rondata, Flick e doppio salto raccolto con un piccolo saltellino in avanti. Seconda la Bulimar nella fase di qualificazione, vediamo anche Dora Cortigiane impegnata nella giuria nel valutare e assegnare poi il punteggio alle atleti oggi in gara. Anche per la squadra romena c'è stato un cambio generazionale e sempre all'avanguardia. Rondata, Flick e Zuccaracarpio? Si, aggiungevo soltanto che Ostadian Bello però è sempre lì. C'è il cambio ma lui rimane sempre il grande allenatore da una vita. Ha eseguito intanto come terza diagonale uno Zuccaracarpiato che è una difficoltà estrema. Il fatto che vedete dall'altra parte dello spazio sulla trave con gli esercizzi. Rondata, Flick, doppio salto raccolto, un pochino sbilanciato in avanti quindi un grande passo.